musica se scendono so fregato dispositivo in campo dispositivo piazzato ma bello interrogation oh stai già interrogando ma non è che la vera non è con noi ragazzi bello ecco oh non scende nessuno da qua sto aspettando da un po' scuola scende poco nessuno c'è un'immenso esce fatta esce perfetto ho vista lì che vedo la sua testa mamma mia drago story che drago story? lo so sono spottino cancro ma anch'io anch'io ho una roba schifosa così ho capito quale spottino oh c'è un'immensa ci pensa drago ci pensa drago non ti preoccupare ma che drago appena scende qua madonna è qua raga è qua dove dove dove? è qua fatto dove? è già morto è già morto non vedi la kill è sopra? aspettiamolo che scenda attento drago non pusciamolo esatto io ritorno in obiettivo raga ecco 15 secondi no ma tanto mi sa che non ce la fa vabbè ora corre basta dire basta era sinistra oddio dai cazzo che scello non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta guarda vedi che l'ha trovata così fa ma porca miseria raga se prendo il blitz faccio una cazzata o faccio bene? io prendo twitch raga stanno sotto stanno dove eravamo noi mi sa mh assurdo ma lui deve ridere io raga faccio la cam ok stanno in archivio a posto bello il muro eh ok raga sono in è una tattica per non far vedere il laser è una tattica per non far vedere oh ma qua siete voi che avete sparato o loro? ma devo entrare da lì? vaffanculo però mi serve qualcuno che copri eh che copra ok raga ho fatto una cam di valkyrie ok quando viene caveira mi sono a caveira eh mi raccomangio da dove? ah non è con noi libero aiuto cavalca figlio di puttana merda raga merda merda ce la stavo rischiando chi era? eh c'era caveira ho trovato di vita dove caveira? oh tiro 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 belli titolo tienes Señora ben titolo ben titolo ben titolo ben titolo Vabbè Quando smiro proprio Un attimo Aspettami aspettami Ok arrivo Entro io Era giù in fondo Provo a fare il giro raga non so Che cazzo che smiro Oh raga sono in trappola io Tec ce l'hai un po' nel culo mi dico Madonna Un po' tanto Mancano 15 secondi 10 secondi Entra e ce l'hai da a destra Tornate a occuparvi del contenitore Madonna Che smirata Che schifo Che smirata Che smirata Che ho fatto Porco schifo che smirata Ah mi vedo Lo vedo lo vedo 102 di ping che schifo Smirato Lag proprio il top Scusate Porco cane Porco Facciamo la tattica di Questo nel minuto Sopra ufficio amministrativo Dai questo nel minuto Tec è stato bellissimo Nel video di ieri Che quando sono stato Ucciso Che hai messo Moshinda io Nani Moshinda io Moshinda io Nani BOM Ma te l'hanno sciolto ieri Tec ho faccio che c'è la finestra aperta Ma l'ora di me la campero dentro Aia abbandonano No No dai Madonna mia Stai lasciando con la pompa con la regolta Con la pompa Con il pompa Con la pompa Con la pompa Scuda pronto Tec fai attenzione Attenzione Come tec 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 Eh fai Ti faccio gli spot Vabbè io vado a fare colazione Fatto Stai bene OĒ Stai bene Grande Tec stanno spaccando e dietro Oddio Madonna Si cattivano Oh raga ma se faccio il giro Da sotto io Poi la gamma lo fa Grande Grande Do C'è grande io Grande E non c'è Non morire mamma mia sciolto sciolto drop shot poi c'è la chi mamma mia 5 secondi all'inserimento aiuto madò ogni volta sono lì che se tengo il drone il mio fetiche è farmelo fare eccola lo stronzo guarda te lo rubai ecco ma sono inciso avvicinato bellissimo quanto che ci vengono a mettere una crema bella andiamo andiamo ma stiamo a farla di merda 8 da vera porco cane e no raga no no si erano in due erano in due raga erano in due per se cavera che il doc erano di stato individuato fatto bella la camera trappuri no è qua è qua è qua da me mamma mia mamma mia on fire technoid on fire mamma mia distrugge il mondo gravi da mi mamma mia 71 in gravi da vita gravi da poi c'è blitz e cello che mi quasi nel quattro i bongolodi sono dei di 2.000 per il coraggio a te oh oh fattelo era fermo raga no lo fa apposta lo fa apposta a dici vedi vedi si è una tattica è una tattica tec lo fa apposta non lo fai oh secondo me se tu apri e io sparo secondo me guarda che ce li facciamo eh no c'hai il drone di dire no ma lo fanno a passo per fartelo spaccare fidati mi sto aspettando che potrei mettere il termite con il pallino in giallo fatto fatto bella ha fatto domande ah dallo spottino si è fatto il termite oddio ora gai lia chi madonna ecco 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 occo ecco ecco guarda io raga un attimo vattela prendere va posso hai fatto male però hai fatta si ho tappato male grande minchia mi ha fatto ho visto ho visto eccolo ecco 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 ma no 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 guarda lì col martello che porco sopra ben fatto che ne abbiano perso vanno sopra lascio li fare lascio li fare meglio così madonna vaga cavera qua sotto cavera qua sotto cavera qua sotto ben bravo eh ma vado a cura guarda cambio caricatore dentro subito perchè do clobb no vada nooo davis nooo davis nooo davis aspetta 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 bella guarda no aspetta l'animazione aspetta lì tu eh no che che sto morendo qua non è che il dogger non è che sto spottino dietro veloce veloce raga dai veloce è qua è qua è qua ai dai sto morendo raga raga è un obiettivo raga è un obiettivo è un obiettivo mamma mia sempre sul pezzo dietro la scrivania raga ora vado da doc e vi faccio curare raga aspettate doc oh è qua madonna che l'ho sentito è lì è lì vai ma tanto hai vinta vai vai madonna ragazzi oh ma sono un labbo ma che cazzo faccio madonna boh finalmente mi avete spaventato brividi fatto poco schifo brividi per il team 5 e 4 e 3 e 5 mamma mia 8 e 3 per un punto dai dai ragazzi ora arrivo per la pazzatura 2 manca l'altro 2 oro 2 si ritorna finalmente oh io sono ancora fermo ad oro 2 porca miseria quando è che mi fa risalire oro 1 ciao 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 ciao